Siamo partiti molto male, contratti, poi piano piano siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco, il secondo e il terzo set li abbiamo giocati molto molto bene, il quarto set la mia convinzione è che forse pensavamo già di aver vinto, dopo abbiamo fatto 3 o 4 errori un po' di presunzione e niente, poi loro una squadra esperta alla fine ci ha punito, però mi è piaciuto anche il fatto che nel tie break da 8-1 siamo riusciti piano piano a rimontare, non l'abbiamo immolato anche se il divario era netto, comunque alla seconda partita sono convinto che faremo valere almeno il nostro stato di forma. Io sono convinto che sia stata più una questione di convinzione, forse secondo me eravamo già troppo convinti, anche se l'allenatore mi stava dicendo appunto che ancora non era finita la partita, però inconsciamente abbiamo fatto 4 o 5 errori che hanno rimesso in gioco Iesi, che secondo me erano già un po' sulle gambe, però una squadra giovane, noi fino adesso stiamo vedendo una buona pallavolo, io sono convinto, forse anche perché sono sempre fiducioso, ma secondo me la nostra squadra ha tutte le caratteristiche, le probabilità di mettere in difficoltà Iesi e di arrivare, non dico alla quinta partita, ma anche vincere prima. Intanto bisogna vincere mercoledì, che questo è più importante, perché poi la pallavolo sembra anche una questione psicologica, oggi come il pugile, loro hanno dato il primo cazzotto, noi abbiamo barcolato, però abbiamo le possibilità, noi siamo arrivati a fine campionata, inizio del playoff con un'altra forma rispetto all'anno scorso, quindi ci lasciamo sperare.